Promoserio Eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e Valle di Scalve. Benvenuti a Promoserio Eventi. Oggi vi consiglieremo gli eventi principali organizzati in Val Seriana e Valle di Scalve per il prossimo weekend e per la giornata di ferragosto. Il weekend 9 e 10 agosto a Clusone si terrà artisti in città. Il centro storico infatti si anima di artisti di strada, saltimbanchi, acrobati, maghi, giocolieri e chi più ne ha più ne metta e saranno pronti a divertirvi con spettacoli itineranti nelle varie piazze del paese. La giuria sceglierà poi a chi consegnare il fanzago d'oro per lo spettacolo più divertente. Sabato gli spettacoli si terranno dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle 23 e domenica dalle 10 alle 12 e anche nel pomeriggio. A Bratto invece il 10 agosto Corri in Brat, un altro appuntamento per la rassegna Corri nei Borghi. La gara podistica sarà poi anche seguita dalla camminata non competitiva per adulti, ragazzi e bambini. Alle 19 e 30 partirà inoltre la Baby Run, addirittura per bambini da 0 a 8 anni. Le iscrizioni si prendono alle ore 18 al campo sportivo di Bratto, ovviamente il comune di Cassione della Presolana. La Val di Scalve anche nel periodo nel weekend dal 10 agosto al 12 agosto offre alcuni interessanti appuntamenti. Ad Azzone il 10 agosto per tutto il giorno ci sarà legno e arte in piazza. Nell'antica piazzetta del comune di Azzone appunto dimostrazione artistica di intaglio del legno con la motosega e mostra a mercato delle opere di maestri intagliatori che proporranno questa tradizionale arte dell'intaglio. A Scilpario invece il 12 agosto ci sarà il monologo Gleno 1 dicembre 1923. Emanuele Turelli già giornalista del Corriere della Sera racconterà il tragico crollo della diga che seminò morte e distruzione in Val di Scalve nel 1923 che tutti ben conosciamo. Sarà accompagnato dalla band The Prismas e dal cantautore Il Bepi che eseguiranno inoltre le colonne sonore e lo struggente brano Gleno. Alle 17.30 presso l'attenso struttura alla pista di sci di fondo concerto del Bepi and The Prismas ad ingresso libero. A Cerete dal 10 al 12 agosto Cerete Alto 1930. I cortili di Cerete si aprono tutte le sere e nel weekend anche nel pomeriggio per rivivere i tempi passati della vita contadina, conoscere gli usi, i costumi e le tradizioni di un tempo. Dalle 19 servizio ristoro con piatti tipici. Sabato 11 agosto inoltre camminata culturale ed enogastronomica Cerete uno scrigno d'arte. Partiranno infatti diversi gruppi dalle ore 17 accompagnati quindi da una guida locale e si potrà poi gustare i piatti tipici alla fine. Per maggiori informazioni ustccerete.com Dal 10 al 19 agosto 10 elode ad Ardesio, quindi 10 giorni di eventi dal mattino alla notte inoltrata per tutte le vie del centro. Ogni giorno ci saranno mercatini di obissi, prodotti tipici e agri bio art, mercatino settimanale prolungato, l'area bimbi, il 15 il giorno di ferragosto e la scarietà dalla tradizionale corsa delle carriole molto divertente e il 19 anche voli in elicottero con partenza dal centro storico. E per la sera karaoke e musica dal vivo in diversi locali di Ardesio. La chiusura l'ultima sera con l'orchestra spettacolo di ballo liscio gli epoca. Per maggiori informazioni proloquoardesio.it L'11 agosto si terrà il tradizionale palio asini a San Lorenzo di Rovetta in occasione della festa del paese del Santo Patrono. Sarà una sfida all'ultimo sangue tra i fantini delle quattro contrade che sfileranno per le vie del centro dalle ore 21. Dalle 19 riapriranno le cucine con un nuovo piatto tipico, cioè ibertù, probabilmente di San Lorenzo e tipici ravioli di San Lorenzo di Rovetta. Alle 23 lo spettacolo pirotecnico. Dal 10 al 12 sarà anche possibile visitare la mostra fotografica I ricordi, la mostra sui vari sul territorio e la popolazione di San Lorenzo di Rovetta presso il salone parrocchiale. Per informazione asdsallorenzo.it Il 14 agosto a Valbondione, Baskers Blues Festival. Tutta la giornata, dal pomeriggio fino a tardanotte, Valbondione sarà animato dal ritmo della musica blues grazie ai numerosi spettacoli nelle piazze, nelle vie delle contrade di Bondione, Lizzola e Fiume Nero, con speciali menu a tema. È al Palazzetto delle Sport alle 21, concerto di chiusura della Travis Blues Band. La giornata è inserita all'interno della rassegna provinciale Pergamo Blues Festival 2012. Per informazioni visitare il sito geomusic.it. Ecco poi alcuni suggerimenti su che cosa fare la giornata di Ferragosto. A Ponte Nostra è molto interessante la visita guidata al Museo del Maglio e alle sorgenti della Nostra, con raviolata a pranzo e a cena e anguriata finale alla fine della passeggiata. Il ritrovo è alle ore 14 al Museo del Maglio in via San Bernardino. A Clusone si cammina in Pineta con i Vigili del Fuoco. Dal mattino alle 7.30 ci si ritrova presso i Vigili del Fuoco appunto in località Pineta a Clusone. A Premolo la festa dei Burlapò, dall'11 al 15 agosto. 5 giornate all'insegna della buona cucina, danze, tombola e divertimento. Servizio ristoro tutte le sere e anche a Ferragosto a pranzo. A Piario la tradizionale festa di San Rocco, in località appunto San Rocco, con specialità locali, fuochi artificiali e musica dal vivo. A Gazzaniga alle ore 17, Gran Galà d'Arie d'Opera, con il quintetto di fiati Orobie presso la chiesa di San Rocco di Gazzaniga. Concerto di chiusura ufficiale della manifestazione Estate Inn, la rassegna concertistica in Valseriana. A Villadogna continua fino al 15 agosto la mostra del fungo e della natura, quindi presso la palestra Fausto Radici, fino alla sera alle 19. Vi ricordiamo inoltre che potete segnalarci tutti gli eventi che organizzate inviando una mail a iat.chiocciolavalseriana.eu e noi li pubblicheremo sul nostro sito internet valseriana.eu che vi consiglio di visitare per restare sempre aggiornati. Vi potete anche scrivere alla nostra newsletter che invieremo tutte le settimane. Vi consiglio inoltre di seguirci anche su Facebook, alla pagina Valseriana e Valdiscalve, cliccare Mi Piace sulla pagina Valseriana e Valdiscalve e condividerci le foto delle vostre escursioni, delle vostre gite e delle bellezze della Valseriana. Grazie a tutti e buon fine settimana! Promoserio Eventi Eventi e manifestazioni della settimana in Valseriana e Valdiscalve